buongiorno benvenuti a questa nuova puntata di mezzogiorno di fuoco rubrica sul sud per il sud dal sud tutto quello che volete voi dal sud ci mettete la parola sud eh ideata e condotta da me Serena Sireoni oggi abbiamo finalmente il primo ospite quindi puntata eccezionale e con noi Guglielmo Barone professore di economia all'università di Bologna e economista che si è spesso e volentieri occupato del sud ricordo un suo paper che raccontavo l'altra volta cito sempre agli studenti sul legame fra la criminalità organizzata e i fondi che riescono a essere presi dal sud e che ho sempre trovato diciamo un modo molto importante e devo dire giusto di fare ricerca sul sud quindi buongiorno Guglielmo grazie per essere qui con noi buongiorno a voi grazie dell'invito e allora perché ti abbiamo invitato allora ti abbiamo invitato perché vogliamo approfittare di un working paper che hai scritto da poco insieme a eh Guido De Blasio e ehm ecco mi non mi ricordo la coautrice chiaramente diciamo Elena Gentili che è più importante di Guido De Blasio lo diciamo ma salutiamo anche Guido De Blasio ehm che secondo noi ha un un grandissimo merito cioè è diventato improvvisamente di attualità adesso il paper ce lo racconterai ma è un paper che eh in pratica dimostra come ci sia un legame fra la crescita economica poi tu ce lo spiegherai meglio la crescita economica di breve periodo e questo secondo me è un elemento molto importante del paper tra la eh il fatto che ci siano dei politici eh che provengono da un determinato territorio e e che occupano posizioni di rilievo vedremo e tu ci racconterai lo avete inquadrato proprio durante la prima repubblica avete preso i politici che occupavano posizioni sia di governo che come leader dei partiti eh di maggioranza e avete dimostrato empiricamente che c'è un legame fra la crescita dei territori e la presenza di queste persone perché è particolarmente timely particolarmente opportuno perché alla luce al all'esito della nascita del governo Draghi dagli amici meridionali del sud si è elevata una voce di protesta guarda un po' non ci sono più ministri del sud facendo anche un torto a Mara Carfagna che non solo è eh eh proviene da un territorio del sud e c'è la campagna ma è anche il ministro per il sud quindi il ministero per il sud non è andato via resta lì dimostrando diciamo un'attenzione a mio avviso particolare però secondo me questo paper è particolarmente rilevante perché oggi possiamo parlare di questo problema della presenza o meno di ministri che provengono dal sud che sono nati al sud che hanno la loro constituency al sud con un minimo di evidenza empirica quindi Guglielmo raccontaci un po' che cosa avete fatto e quali sono i risultati sì diciamo questo questo lavoro questo paper nasce dal desiderio di 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 un po' più ampio di capire cosa succede quando i politici giocano al tavolo dell'economia e non siamo i primi a fare questa cosa altri hanno visto gli effetti del dei come i politici influenzano le scelte e le performanze di impresa o di singoli individui noi ci siamo chiesti un po' più in generale come i politici impattano sulle vicende dei territori ehm per fare questo abbiamo studiato il caso della italiano della cosiddetta prima repubblica per chi ci ascolta è un po' più giovane di noi ricordiamo cos'è la prima repubblica eh diciamo è un termine diciamo giornalistico e semplificando non me ne vogliano gli storici è un periodo che grosso modo va dalla fine della seconda guerra mondiale a i primissimi anni novanta sostanzialmente cosa succede in questo periodo succede che il mondo è tagliato in due come una mela dalla cosiddetta guerra fredda quindi ci sono alcuni che stanno con il patto atlantico diciamo che ha come suo perno gli Stati Uniti altri paesi lo scacchiere mondiale che stanno con l'Unione Sovietica poi ci sono paesi cosiddetti non allineati ma è poca roba sostanzialmente l'Italia sta col patto atlantico al contempo l'Italia ha il più forte partito comunista d'Occidente che crea quella che si chiama una convenzio ad excludendum cioè l'idea che il PC il partito comunista italiano di fatto che puntava a prendere il potere attraverso elezioni democratiche di fatto diciamo non avrebbe potuto fare questa cosa per gli equilibri che andavano ben oltre l'Italia in equilibri come dire mondiali questo fa sì che la classe politica italiana sostanzialmente si cristallizza in un gruppo di potere che ruota intorno al maggiore partito del tempo che era la democrazia cristiana che di fatto governa l'Italia per 50 diciamo sì diciamo 40 50 anni quindi c'è la democrazia cristiana al centro e altri partiti che ruotano attorno alla democrazia cristiana per permetterle di governare ed è un sistema che è passato più o meno alla storia col termine di pentapartito cioè un polo centrale la dc e altri poli attorno alla democrazia cristiana quindi crea un blocco di potere e quindi poca nessuna di fatto alternanza questo era unito al sistema proporzionale che diciamo che permetteva questa diciamo di tenere questo blocco di potere questo è lo questo come dire comincia alla fine della seconda guerra mondiale quindi dal 48 in poi essenzialmente questo mondo finisce sostanzialmente tra la fine degli 80 e primi del 90 quando cade il muro di berlino viene meno la minaccia del come dire della della cortina della minaccia sovietica vista così dal dall'occidente e in Italia anche questo crolla quel sistema politico sotto anche i colpi così della cosiddetta tangentopoli cioè un sistema viene fuori in modo massiccio agli occhi dell'opinione pubblica un sistema illecito diciamo così di finanziamento dei partiti di corruzione e via discorrente quindi abbiamo questi 40 50 anni in cui c'è c'è un gruppo di potere molto molto ben individuabile la nostra domanda diciamo seguendo questo filo logico cosa abbiamo fatto con Guido e con Elena ci siamo chiesti se i politici che erano più importanti in quel periodo li individuiamo come i segretari del pentapartito oppure e o persone che hanno guidato il governo in quegli anni abbiano la nostra domanda è se queste persone hanno adottato politiche di favore nei confronti dei loro territori di provenienza tali da incidere sulle fortune economiche di quei territori quindi a ciascuno di questi di queste di queste persone sostanzialmente associamo il loro comune di nascita e le zone limitrofe e poi andiamo a vedere se queste zone hanno nei 40 anni le fotografiamo sostanzialmente al 1951 è una data scelta per la disponibilità dei dati diciamo le fotografiamo all'inizio del periodo associamo questi territori ad altri territori che sono del tutto simili ai territori connessi alla politica per molte caratteristiche e poi li andiamo a rivedere al 40 anni dopo al 91 per vedere che cosa è successo in questo in questo periodo quello che scopriamo in primissima battuta poi potremmo essere come dire carlo mi direi tu quanto più analisi eccetera però quello che scopriamo è che sostanzialmente aver dato in Italia un politico potente della prima repubblica frutta una crescita economica su 40 anni pari all'otto per cento della popolazione misuriamo la crescita economica in termini di popolazione perché su piccole aree come un comune o cose del genere i dati italiani non danno il dato che sarebbe come dire quello che avremmo voluto il no misura di pil pro capite per esempio ma l'approssimiamo con la popolazione del resto è chiaro che un'area che prospera vedrà aumentare la sua popolazione sia perché ci saranno quindi la fecondità sarà maggiore sia soprattutto perché attrarrà immigrazione da altre aree ok quindi diciamo riassumendo il messaggio fondamentale del paper che aver dato i politici aver dato i natali a un politico importante della prima repubblica fruttava un premio in termini di crescita economica misurata attraverso la popolazione pari all'otto per cento ed è un numero come dire importante non piccolo e diciamo sul quale sul quale vale vale la pena riflettere ecco ehm mino ah c'è Serena che vuole parlare attenzione non si smuta no non riuscivo a smutare eh ecco questo vale il perché i perché sono tanti Guglielmo no ehm a partire da dal sistema elettorale eh cioè nella prima repubblica c'era un sistema al quale probabilmente torneremo eh proporzionale con e su questo non so se ci torneremo con eh voti basati non su eh liste bloccate ma eh sulle preferenze e questo rende diciamo l'eletto eh vicino alla comunità di appartenenza risultato che sia ugualmente nel caso di al contrario sistemi eh proporzionali con collegi con collegi unici no? Eh quindi il sistema elettorale senz'altro influenza il rapporto che c'è tra eh l'eletto e il il bacino di eh di riferimento eh quindi ti ti volevo chiedere se questa analisi qui può essere valida ancora oggi o se eh al di là della questione del sistema elettorale il collante eh politico consensuale è tale che regge alla alla prova di qualsiasi sistema elettorale e quindi effettivamente conviene eh creare delle diciamo degli incubatori eh di politici eh a livello a livello locale cosa su cui eh ci sono dei dei territori che sono stati sempre molto più eh attivi penso per esempio alla Toscana anche no? Eh e altri territori penso alle mie marche eh io sono una 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 eh terrona d'adozione professionale ma vengo dalle marche e che hanno invece sempre dimostrato una che per un terrone sono al nord ricordiamolo cioè lo voglio dire nel senso le marche sono le marche non esistono perché per un terrone sono al nord per un nordico sono 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 al sud e quindi non esistono ehm però eccole hanno non hanno mai sviluppato grandi grandi personalità di spicco con effetti abbastanza evidenti secondo me appunto proprio sulla non esistenza anche anche nel dibattito eh politico però appunto ti volevo chiedere se rispetto a eh un sistema non soltanto una repubblica con un diverso numero ma un sistema elettorale che è poi la principale distinzione che è stata fatta tra prima e seconda repubblica la la vostra analisi le vostre conclusioni eh reggono reggono ancora oggi e quindi danno anche un senso alle polemiche che ci sono state ora con 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 la lista dei ministri del governo Draghi. Sì ma guarda io direi la risposta alla tua domanda è affermativa ma in tono minore mi pare che possono contare meno di quanto non contassero nella prima repubblica mi spiego gli anni che noi studiamo sono anni in cui il c'era da costruire da ricostruire l'Italia sostanzialmente ok? Ed erano anni in cui per ricostruire l'Italia lo Stato entra pesantemente nell'economia eh il peso della spesa pubblica sul prodotto in quegli anni cresce molto cresce anche al netto del servizio del debito quindi cresce perché proprio lo Stato ci mette dei soldi lo Stato costruisce le autostrade per esempio costruisce molte cose lo Stato soprattutto da eh da da luogo a quella che è passata poi alla storia col nome di economia mista cioè è attivo in attività economica di impresa dirette famosi panettoni di Stato ma non solo panettoni tante altre cose quindi in un mondo in cui eh vuol dire c'è un pezzo di economia che è fortemente legata alla politica e quindi è lo strumento per attuare politiche selettive politiche verso il territorio di provenienza lo strumento è più forte quindi probabilmente l'incentivo oggi è uguale a ieri ma lo strumento oggi è come dire meno potente di quanto non fosse ieri non fosse altro perché appunto la presenza dello Stato nell'economia è decisamente maggiore non fosse altro perché un po' di infrastrutture le abbiamo già costruite che era il classico strumento come raccontiamo nel paper per redistribuire come dire utilità e prebende in giro per l'Italia quindi secondo me conta ma conta sperabilmente diciamo così meno che 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 in passato ecco Mino io vorrei tornare un attimo al paper perché c'era per per ricollegarci alla all'attualità ehm perché ci sono dei risultati appunto interessanti perché la crescita di cui eh parli appunto approssimata di cui parlate approssimata per la crescita popolazione non sembra avere effetti persistenti quindi poi quando questi soggetti non ci sono più nel tempo si disperde questo effetto di crescita economica c'è quindi un effetto di breve periodo e c'è soprattutto un effetto che appunto voi evidenziate di spiazzamento dell'impresa privata con il rischio quindi che poi questa crescita sia in qualche modo eh effimera fate questo fantastico esempio il cui il di cui il tuo sfondo è è un un appunto un ricordo della cosiddetta curva Fanfani no? La tossata del sole viene costruita pare che Fanfani a un certo punto con un tratto di penna eh sposti da Siena ad Arezzo mi pare di ricordare sulle sue città natale il passaggio dell'autostrada e quindi per dare ecco un segno ehm e quindi per fare prosperare il proprio territorio ecco visti questi risultati in termini di lungo periodo dobbiamo davvero preoccuparci se al governo dico se nel governo Draghi non ci sono ehm personalità del sud che possono con un tratto di penna eh cambiare il corso di qualche infrastruttura a me se non concesso diciamo che come dicevi tu lo stock possa crescere più di tanto e poi c'è un altro tema su cui ti vorrei ti vorrei eh coinvolgere c'è il tema è quello del sud voi fate un ragionamento su tutta l'Italia in un momento in cui tutta l'Italia aveva necessità di crescere da un punto di vista appunto infrastrutturale poi voi chiaramente fate riferimento a a una serie di settori che sono il settore di grande impatto occupazionale e così via ecco io ho visto passare tantissimi ministri del sud ricordo sempre a tutti che per la Sicilia i ministri più importanti eh eh sono stati quelli della provincia di Agrigento che è sempre rimasta l'ultima la più povera quindi da questo punto di vista voi giustamente guardate alla media eh l'outlier è sempre la Sicilia la provincia Agrigento secondo me è il massimo outlier ecco c'è secondo te non c'è nel paper ma tu sei una persona che queste cose ne capisce perché le studi e le approfondisce c'è un problema appunto di qualità della spesa istituzionale anche in questo legame con la politica secondo te sì in parte questa grazie per questa domanda che mi aiuta anche a completare la risposta appunto di Serena di prima come dire oggi conviene averci come dire essere rappresentato rifraso così la domanda conviene averci il politico amico a Roma che potente riesce a muovere le carte mettiamola così ecco e allora lì è un tema ovviamente sono i gusti individuali vabbè su quelli c'è poco da discutere però ci sono anche un po' di evidenza appunto allora se avere il politico che mi porta lavoro mi porta il cantiere mi porta questa roba qui quindi fa un po' di crescita di breve periodo anche un po' meccanica e forse la risposta è sì se però sei interessata a una crescita robusta sostenuta credibile che è capace di camminare con le sulle proprie gambe di lungo periodo forse la risposta quasi paradossale potrebbe essere no perché perché evito lo spiazzamento di tanta spesa pubblica improduttiva che inevitabilmente spiazza poi l'iniziativa l'iniziativa privata come diceva giustamente Carlo prima noi osserviamo che 40 anni dopo c'è un vantaggio per questi per questi comuni poi abbiamo questo meraviglioso esperimento naturale per cui cade il muro di Berlino c'è Tangentopoli eccetera quindi quel mondo crolla dalla sera alla mattina e noi abbiamo 20 anni di come dire di dati per poter osservare cosa succede dopo e quello che succede dopo è che questo vantaggio scompare sostanzialmente quindi non hai fatto crescita endogena che è quello di cui il sud ha bisogno qui come dire apriamo la porta su che tipo quanta e di che tipo spesa pubblica insomma sarebbe necessaria al sud e probabilmente adesso insomma senza voler entrare in un tema particolarmente complesso eccetera però mi sembra abbastanza evidente che il problema di oggi dello sviluppo del mancato sviluppo del mezzogiorno non è quello di averci il politico amico che porta un po' di infrastruttura porta un po' di spesa pubblica i problemi sono ben altri ecco poi possiamo discuterne se si ritenete opportune eccetera però non ne farei sicuramente un tema di quantità di spesa oggi ecco assolutamente anche perché anche perché come dire e poi più in generale come dire dobbiamo metterci in una logica un po' più alta in cui la spesa inevitabilmente la spesa va su certi territori per definizione perché se faccio il ponte di messina lo faccio a messina e non lo faccio a venezia per definizione ma dobbiamo credere chiederci qual è qual è la spesa che è veramente utile cioè dove la faccio perché se io scopro che la faccio con in modo efficiente creando per esempio una cosa un po' difficile a raccontarsi in un video che si chiama però economia di merazione cioè l'idea io creo del valore aggiunto veramente io potrei anche come dire un pezzettino per raggiungere una finalità di tipo distributivo sul territorio potrei anche tassare per esempio un pezzettino del valore creato dove faccio l'infrastruttura e redistribuirla per esempio e ci sarebbe come dire un miglioramento staremmo tutti meglio tutti i territori starebbero meglio quello che viene fuori nel lavoro per esempio è che la spesa è stata fatta in certi posti non in altri ma quei posti visti ex ante non avevano nulla che indicasse il fatto che spendere in quei posti era meglio che spendere altrove quindi sostanzialmente quello che indica il lavoro un altro risultato del lavoro è che si è speso lì ok ma non si è speso lì perché il politico sapeva che era meglio far passare l'autostrada da Arezzo invece che da Siena si è speso lì per altre ragioni verosimilmente di tipo clientelare e basta quindi è un gioco a somma zero per l'Italia nel suo paese noi vogliamo giochi a somma positiva guarda eh Guglielmo è la risposta se se posso veramente più eh più esaustiva e chiara rispetto a questa polemica sulle nomine eh sulla spartizione territoriale delle della della governo Draghi che ho trovato francamente di una contraddizione di fondo così lampante così eclatante che mi pare che nessuno l'abbia detto cioè se se il sud è un problema nazionale ok o se il divario tra nord e sud se la mancata eh vicinanza delle 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 prestazioni del sud rispetto al nord è come io credo che sia un problema nazionale almeno finché eh i confini dell'Italia sono questi e che è quello che dal sud viene sempre detto no? Il sud non è un problema del sud ma un problema di tutti compreso del nord come si fa poi a lamentarsi del fatto che non ci sono ministri che vengono dal sud dando quindi l'idea che invece soltanto una distribuzione territoriale di potere porta a una distribuzione territoriale di occasioni cioè a me pare una roba di una contraddizione pazzesca se chi invoca le politiche nazionali per il sud se ne dovrebbe fregare anche soltanto in apparenza guarda anche ipocriticamente se ne dovrebbe dire me ne frego di dove viene il ministro perché il punto il punto è così di interesse nazionale che qualunque città abbia dato natale ai ministri sarà alla nella loro diciamo tra le loro priorità la questione del mezzogiorno riportarla al clientelismo territoriale vuol dire fare esattamente l'opposto di quello che si pretende di far credere e cioè appunto che la questione del meridione sia una questione che riguarda l'Italia intera la società italiana la cultura italiana l'economia italiana poi si ci si lamenta che il federalismo fiscale della battaglia del nord per il federalismo fiscale ma è la stessa cosa cioè un tirare acqua al proprio mulino il nord lo fa cercando di fare politiche che trattengano risorse a casa loro e mi sembra anche un modo un po' più serio del clientelismo diciamo per provenienza per provenienza dei natali e chi chi diciamo si è lamentato della mancata dei mancati natali meridionali dei ministri lo fa con me con sotto un'altra ottica cioè appunto eh eh tirando acqua al proprio mulino dal punto di vista dei natali ripeto mi sembra mi è sembrato un discorso e una lamentela di una contraddizione lampante ma al tempo stesso non mi non mi pare che sia stata da questa contraddizione sia stata sottolineata nella nel modo che merita non mi pare che se ne sia se ne sia sottolineato né l'approccio infantile né l'approccio come giustamente dicevite clientelare ma anche clientelare nel senso più dispregiativo del del termine eh se è vero che il sud è una questione nazionale appunto che chi non importa come sempre come in tutte le questioni di 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 quote guarda chi Carlo sa che eh io sono molto noiosa sulla questione delle quote di genere ehm però eh insomma se 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 le priorità delle scelte politiche e le competenze delle persone hanno un senso tutto il resto mi pare che si smonti come io io volevo aggiungere eh Guglielmo e e anche su questo poi ti vorrei fare chiudere prima di andare con la buona notizia che questa volta diciamo una buona notizia che può sembrare brutta invece buona diciamo vabbè ma noi ne parliamo no volevo dire in realtà proprio a supporto e le diceva Serena e su punto appunto chiede qualcosa a te ci sono due elementi di fondo mi sembra che Draghi nel suo intanto che c'è un ministero per il sud che non è stato poteva essere anche eliminato voglio dire poteva anche dire leviamo il ministero per il sud invece lasciare un ministero per il sud significa proprio fare con atti politici ciò che dice Serena cioè dire c'è un problema ed è il sud ed è un problema nazionale ma c'è il recovery recovery next generation EU i cui obiettivi di fondo non vengono cambiati cioè da questo punto di vista Draghi ha detto lo rivedremo lo ristruttureremo ma ha detto che quegli obiettivi ci sono tra quegli obiettivi c'è la convergenza e e l'inclusione dei territori e ci sono una serie di elementi eh Guglielmo ci ricordava poco prima che andassimo in onda che eh in realtà l'Unione Europea ha detto che vanno bene gli sgravi e quindi la contribuzione decontribuzione e diciamo la fiscalizzazione di parte dei contributi cosa da cui eh questa trasmissione rispetto alla quale abbiamo abbiamo non ha detto va bene ha detto l'Unione Europea ci ha raccontato l'Unione Europea aveva detto che andavano bene e quindi il principale ostacolo non c'era per noi questa non è una buona notizia ma era contenuta nel recovery fund però certamente ecco dico il recovery ha degli elementi in cui il sud è protagonista quindi i fatti parlano per un supporto a favore del sud non Sì ma poi come dire la risposta alla tua domanda è assolutamente affermativa ehm c'è l'attenzione eh non starei a ehm starei però molto lontano dalle polemiche come dire svimeziane su quanti soldi me ne devi di più me ne devi di meno e via discorrendo anche perché appunto io credo che la più grande riforma che si possa fare per il sud ma di questo però se ne parla in realtà molto meno e in realtà è un discorso che vale forse in maggior ragione per il sud ma probabilmente anche per tutta l'Italia e la verità è come dire che noi abbiamo questo enorme problema al di là della capacità di spesa della qualità della spesa che probabilmente passa non solo da come dire dalla testa della macchina quindi il ministro e i dirigenti di cui il ministro si circonda ma passa probabilmente anche per tutta la fase attuativa cioè che qualità di pubblica amministrazione abbiamo per poter dire poi dare voce dare attuazione effettiva a questa spesa su questo secondo me qualsiasi il problema è enorme intendiamo c'è il problema è davvero per me il problema dei problemi in questo momento oggi in Italia come dotarsi di una macchina pubblica di una macchina pubblica capace di come dire dar seguito a iniziative di politica economica che possono essere giusto o sbagliate ma che spesso poi si perdono nella fase attuativa e su questo secondo me al sud ci sarebbe moltissimo moltissimo da da fare un secondo punto che vorrei sul quale vorrei portare l'attenzione che forse spesso molto molto sottaciuto è che tantissime politiche che non sono espressamente cioè il destino dei territori non è solo legato a alle politiche economiche che hanno il cappello di politiche territoriali quindi la decontribuzione o le zone economiche speciali o quello che sarà ma c'è tantissime altre politiche che hanno enormi ricadute anche spaziali di cui invece non parla mai nessuno rispettate alle politiche migratorie per esempio il sud è investito in primissima battuta dalle politiche migratorie per esempio quindi sono partite e nessuno si preoccupa di questo oppure altre partite non so se parte o se si ferma speriamo la guerra dei dazi tra stati uniti e cina nella misura in cui l'europa ne viene coinvolta e quello colpirà alcune produzioni e quindi territori dove quelle produzioni sono particolarmente concentrate visto che noi abbiamo questa geografia economica ma non solo noi questo un po' c'è in tutto il mondo in cui certe produzioni si localizzano in certi territori quindi sono tante politiche che non hanno il cappello di politiche territoriali ma che impattano molto sul sulle vicende dei territori di quelle non parla non parla mai nessuno sostanzialmente quindi io come sarei ritornando al vostro punto iniziale non mi preoccuperei che il sud è sottorappresentato buttiamola proprio facile facile è stato sovra rappresentato nell'ultimo anno e mezzo di quello che è stato diciamo di governo e non è che diciamo abbiamo visto non abbiamo visto grandi progressi ecco e quindi mi sembra io starei molto tranquillo da questo punto di vista mi preoccuperei invece come dire di di cose un po' più un po' più solide grazie gugliano peraltro senza senza dimenticare che al di là delle scelte politiche poi è l'attuazione di quelle scelte soprattutto in termini di finanziamenti investimenti che fa la differenza faremo una puntata prima o poi con con Carlo sulla sull'uso dei fondi di coesione che vanno quasi tutti al sud e quasi tutti poi non vengono spesi no e lì non è più nemmeno una questione di di volontà politica di scelta politica a monte comunque tutto questo diciamo senza dimenticare che Mara Garfagna che è appunto ministro incaricato a queste a queste faccende e di natali meridionali quindi senza nulla sminuire diciamo alla al suo incarico è venuto il momento della buona notizia io la do non stavo più nella pelle guarda guarda io la do secca 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 asciutta 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 poi ovviamente noi la diamo come buona notizia quindi abbiamo preso abbiamo preso posizione eh molti come annunciavi te probabilmente non la prendono non la prendono come tale che è successo che eh la eh vicenda la decisione di aggregare le piccole banche eh in ehm in una banca del sud eh a seguito della 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 delle vicende ehm per far delle scelte diciamo per far nascere il polo bancario meridionale intorno alla popolare di Bari eh è per adesso stato messo in un cassetto banca popolare eh di Bari ha eh come sapete eh bisogno appunto di una via di uscita una delle vie di uscita eh ipotizzate forse quella più più ehm amata più quella preferita mh dalla dal precedente esecutivo era appunto una banca del sud che fosse un'aggregazione di piccole banche intorno intorno all'istituto pugliese eh in realtà appunto questo 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 progetto eh finisce in un cassetto eh per almeno almeno fino al eh duemila duemila e ventitré eh io l'ho presa come una non cattiva notizia quanto abbiamo presa come una buona notizia qui non non Guglielmo non lo abbiamo intervistato su questo lui è ospite non c'entra io e Serena Sireoni nell'ambito di su e pensiamo che sia una buona notizia perché va nel senso di quello che però Guglielmo ci raccontava cioè in fondo diciamo è bene che ci siano politiche che non sempre sono territoriali che spingono poi una certa parte del paese il sud in questo caso a andare verso criteri di efficienza è chiaro che ci sono dei problemi al sud non ultimo l'accesso al credito ai problemi di finanziamento che richiedono una certa sensibilità probabilmente nei modelli di rischio e così via però è anche vero che se uno pensa di fare a banca del sud perché ci mette gente del sud e poi sostituisce il capitalismo di relazione alla come abbiamo visto per rimote che è proprio il principale motivo per cui la banca popolare di Bari ha bisogno di una via d'uscita ecco e allora diciamo diciamo che la banca del sud non era una grandissima idea almeno per noi per cui per noi è una buona notizia ringrazio eh Serena si riuscita presso presso assolutamente anzi se posso se posso aggiungere una cosa se posso aggiungere un paio di battute su questa cosa della banca del sud anche per me è un'ottima notizia ricordo solo come c'è un bellissimo lavoro di un economista italiana che lavora da anni a Chicago che fa vedere si chiama Paola Sapienza che fa vedere che ai tempi delle banche pubbliche diciamo di interesse pubblico la banca collegata alla democrazia cristiana questo appunto per i meno giovani come noi faceva pagare un tasso di interesse in provincia di Avellino feudo di C che era molto di basso ricordiamo di De Mita e dell'Avellino in serie A e dell'Avellino in serie A ricordiamo dei tempi faceva pagare un quel tipo di impresa un tasso di interesse che era molto più basso di quello pagato da un'impresa del tutto analoga per settore rischio eccetera che però operava in posti per esempio a Bolzano dove la DC invece era credo al 7 per cento insomma era molto molto basso quindi di quei non c'è non c'è nessuna nostalgia di quei tempi e questo tema della banca del sud è un tema che vado proprio a memoria ma forse era un tema che venne tirato fuori da Tremonti un po' di tempo fa già da un po' di tempo fa c'è un discorso di Draghi del 2009 che ricordo anche perché come dire ero presente in sala a quel discorso d'auditore e che che disse no guardate cioè non c'è non abbiamo bisogno della banca del sud quindi adesso non so se adesso questa notizia che ci ha dato sereno è una coincidenza o meno ma comunque eh dell'arrivo di Draghi oppure no ma comunque senz'altro benvenuto. Allora noi speriamo che non lo sia ringraziamo ancora Guglielmo che torneremo a che torneremo a disturbare è stato il primo ospite ma torneremo a romperti le scatole visto che come vedi vedete ci ha dato subito evidenza e supporto empirico a una nostra sensazione piacevole che la banca del sud non serviva ancora grazie Guglielmo e un saluto a tutti ciao ciao